Oggi si ricorda San Leone Magno. Imita il buon pastore che va in cerca della pecorella e la carica sulle proprie spalle. Comportati in maniera tale che quanti sono in qualche modo lontani dalla verità li riguadagna Dio con le preghiere della sua chiesa. Ecco così scriveva Papa Leone a Timoteo, vescovo di Alessandria, il 18 agosto dell'anno 460, un anno prima di morire, offrendo consigli che sono lo specchio dell'intera sua vita. Un pastore che non si accanisce contro le pecore ribelli, ma che usa la carità e la fermezza per ricondurle all'ovile. Il suo pensiero è riassumibile in due passaggi fondamentali. Anche quando devi correggere salva sempre l'amore. Questo è il suo principio, il primo principio di questo pastore, ma soprattutto l'altro principio. Cristo è la nostra forza, con lui potremo tutto. Non a caso Leone Magno è noto per aver affrontato il capo degli unni, Attila ricordate, il terribile re barbaro soprannominato il flagello di Dio, le cui torme dove passavano cercavano e facevano tabula rasa, convincendolo, armato solo della croce papale, a non marciare su Roma per saccheggiarla e a ritirarsi oltre il fiume Danubio. Un incontro questo che è avvenuto nell'anno 452 sul fiume Mincio, ancora oggi uno dei grandi misteri della storia e della fede, è un episodio tra i più celebri della storia del papato. Su quali argomenti egli abbia fatto forza per far desistere il terribile re barbaro Attila dai suoi propositi, a noi non è dato di sapere. Non certo sulla consistenza delle proprie truppe, perché si presentò a lui guidando uno sparuto gruppetto di uomini che l'uno avrebbe potuto annientare con un soffio. Nato tra il 390 e l'anno 400 da una famiglia toscana, Leone sin da giovane opera come arcidiacono di Papa Celestino, al quale succederà nell'anno 440 dopo l'elezione, avvenuta in un clima di ammirevole pace proprio mentre si trova in Gallia, inviato dal pontefice a sedare un conflitto tra il generale Ezio e il senatore Albino. Vive in tempi particolarmente difficili, sia per l'impero minacciato dalle invasioni barbariche, sia per la Chiesa minata all'interno da continue deviazioni ereticali. Una realtà che è costretto ad affrontare in prima persona, riaffermando ogni giorno la supremazia della sede di Pietro su tutte le altre, in un conflitto non privo di imprevisti fino a contrapporsi addirittura all'imperatore Teodosio. L'impero romano, infiacchito da una decadenza ormai irreversibile, non era più in grado di contrapporre valide resistenze ai popoli barbari. E Papa Leone seppe far fronte a tutto ciò con energia e abilità, spuntando anche le ambizioni di alti prelati in vena di primeggiare. Succede sempre. E se dapprima era riuscito a fermare Attila, non ottenne lo stesso effetto nell'anno 455 con Genserico, il re dei Vandali, che nell'anno 455, appunto, invase Roma e la saccheggiò. Genserico non si lasciò tuttavia andare a inutili stragi come lo stesso pontefice gli aveva disperatamente richiesto. Alla sua morte, il 10 novembre dell'anno 461, la pace regna in tutta la Chiesa. Autore di numerosi scritti, ci restano 96 circa sermoni e 173 epistole. Ed è ricordato anche come il promotore delle Basiliche dei Santi Pietro e di San Paolo. Dagli scritti di Papa Leone Magno traspare una dottrina solida, una vera solidità di dottrina, il calore umano, l'entusiasmo e insieme la preoccupazione di raggiungere il bene spirituale dei suoi figli, ai quali parla con un linguaggio accessibile, traducendo in formule chiare e anche sobrie la stessa dottrina cristiana. È stato il primo Papa ad essere gratificato con il titolo che anche noi abbiamo ricordato di Magno, ossia il Grande. E nell'anno 1754 ebbe inoltre quello di dottore della Chiesa, perché tale fu per santità, per saggezza politica e per abilità con cui è riuscito a rinsaldare lo spirito della Romanità nei confronti delle invasioni barbariche e per la sua ammirevole carità. Papa Leone è patrono dei musicisti, dei cantori e degli organisti. Noi oggi, ricordando questo grande pontefice, rivolgiamo a Dio la seguente preghiera. Signore Gesù, tu sei la via per andare al Padre, il pastore che ci guidi alle sorgenti delle acque della vita. Donaci, ti preghiamo, la libertà del cuore, non l'apparente libertà dello scegliere l'una o l'altra cosa, ma la libertà più profonda, quella fatta di sacrifici e di offerte nascoste, quella che nasce dal dono incondizionato, vissuto nella sequela di te. Fa che, liberi nella libertà dell'amore, possiamo essere in questo tempo, nella nostra vita mortale, il popolo della libertà che viene da te. Anticipo e caparra del regno che viene. Tu, che sei l'alleanza in persona, donaci di vivere con gli altri nella tua Chiesa, relazioni dialogali, libere e liberanti, capaci di svelare noi a noi stessi e di realizzarci secondo il cuore di Dio, nell'ascolto e nell'obbedienza d'amore di tutta la vita. Amen. Alleluia.